Con l'aiuto dei giovani e il loro spirito innovativo possiamo realizzare il sogno di un mondo dove il pane, l'acqua, i medicinali e il lavoro fluiscano in abbondanza e arrivino ai più bisognosi. E' quanto ha scritto Papa Francesco in un tweet, un messaggio diffuso in occasione della giornata internazionale della gioventù, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999. E al termine dell'udienza generale di mercoledì scorso, Bergoglio ha espresso vicinanza ai religiosi monfortani per l'omicidio di Padre Olivier Mer. Rivolgo le mie condoglianze alla comunità e alla famiglia, ha detto il Pontefice. Padre Mer, 60 anni, è stato ucciso da un uomo cui aveva dato ospitalità. Sentiamo. Con molto dolore ho appreso l'omicidio di Padre Olivier Mer. Rivolgo le mie condoglianze alla comunità religiosa dei monfortiani, a Saint-Laurent-sur-Sef, in Vendée, alla sua famiglia e a tutti i cattolici di Francia. Vi assicuro la mia partecipazione e la mia vicinanza spirituale. Sono le parole di Papa Francesco che ricorda quanto accaduto nella regione francese della Vendée, dove nella notte, tra domenica e lunedì scorso, un uomo ha ucciso Padre Olivier Mer, superiore provinciale della congregazione dei missionari monfortari. L'omicida era posto sotto sorveglianza per l'incendio di un anno fa della cattedrale di Nantes. Al momento le indagini escludono il movente terroristico, ma confermano lo stato psicologicamente instabile dell'assassino, ora ricoverato in una struttura psichiatrica. Immensa tristezza e vicinanza alla famiglia hanno espresso la congregazione dei missionari monfortani e religiosi e vescovi francesi. Una tragedia, aggiungono, che ha senso solo nella fede. Se il seme non muore, rimane solo, ma se muore, porta molto frutto. Solidarietà a tutti i cattolici è stata espressa anche dal presidente Macron e dal primo ministro, Jean Castet.